Bentornati su MyFootballGersie, continuiamo a vedere maglia retro, questa l'avrete riconosciuta è la prima maglia del Manchester United per la stagione 93-94, la squadra di Cantona! Grazie per la visione! Wow! Come vedete sul canale vediamo spesso maglia retro e questa sicuramente è una di quelle che non poteva mancare il costo lo vedete qui sopra, per questa maglia fate voi le vostre considerazioni ma secondo me è un affare impertibile qua sotto in descrizione trovate i riferimenti per ordinare la maglia ma vi ricordo di andare a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo di prima diventa ancora più basso prima di lasciarvi la parte finale mi raccomando iscrivetevi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan alla prossima ciao 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 ciao